Tante polemiche qui a sentimento da parte dei cittadini, una levata di scudi contro l'ipotesi di chiusura dell'ufficio postale, uno degli otto uffici a rischio sul territorio provinciale. La mannaia con la quale da Roma iniziano a saltare uno dopo l'altro pressivi storici per il territorio è quella definita con una settica parola d'ordine, razionalizzazione. Tolgono un servizio fondamentale per i cittadini. Per sentimento sì, per sentimento è l'unico che c'è. Quali sono le difficoltà a cui andrete incontro nel caso di chiusura? Per me sono poche, ma per qualcuno, per gli anziani così, perché poi dovevano, che deve andare a prendere la pensione, che non c'è nessun servizio. Mi dispiace come tutti gli altri, diciamo che per certa gente è molto comoda, per gli anziani e per il resto poi si sa, fanno quello che vogliono, bisogna subire le conseguenze. Io personalmente mi dispiace. Non sappiamo dove andare. Poi la gente qua, senza mezzi così, dove va? Sempre più complicato vivere nelle frazioni. Eh sì, eh. È una cosa grave per il sentimento. È una cosa grave perché ci sono una mucchia di anziani. I cittadini della frazione, che conta circa 600 abitanti, nel corso di una partecipata riunione pubblica hanno manifestato le loro preoccupazioni all'amministrazione comunale. Per scongiurare la chiusura, in tanti hanno addirittura minacciato di trasferire i propri risparmi dal conto postale ad un conto bancario. No, io no, ma perché non fa né caldo né freddo a loro. Minaccia, ma è quasi obbligato. In questo momento l'intenzione dell'amministrazione è quella di fare tutto il possibile perché le poste rivedano questa decisione che, se aziendalmente è comprensibile dal punto di vista sociale, lascia un grande buco. Giunta comunale già al lavoro per cercare di mettere in campo soluzioni che, in caso di ok alla chiusura definitiva, possono andare incontro alle esigenze dei cittadini non più autosufficienti. Si pensa ad un potenziamento del servizio di trasporto sociale. Non è la sola ipotesi al vaglio del Comune. In alcuni casi ci sono state anche delle proposte di poste italiane legate ad esempio al postino telematico per il pagamento di bollettini, di MAV e altri tipi di funzioni di sportello. Valuteremo quale sarà l'ipotesi migliore.